Ciao, sono un bulgaro Susanna dall'Italia, arrivo, mi trovo in Albania alla chimica Thermolife per risolvere un problema del viso e del senno. Sono arrivata qui tramite una raccomandazione e fino a qui mi sono trovata molto bene e anche sono convinta che usciva tutto bene perché ho visto dei risultati tramite anche Facebook, però anche qui sono convinta che andrò tutto bene.